In questa video-lezione noi analizzeremo il movimento letterario del barocco, partiremo da alcune basi storiche del Seicento e poi ci concentreremo in maniera specifica sul fenomeno letterario. Di fatto mai i critici letterari sono convinti che quando si parla di Seicento in letteratura si parla di epoca barocca. In effetti possiamo dire che tutto il Seicento sia un periodo fondamentalmente barocco. Se vogliamo restringere un po' il campo di cento anni potremo far concludere il barocco intorno al 1690, anno di fondazione dell'Accademia dell'Arcadia. Però di fatto possiamo considerare il Seicento un'epoca fondamentalmente barocca. E allora vediamo un pochettino quali sono le premesse storiche di questo barocco e quindi del Seicento. La situazione storica è una situazione estremamente complessa. Assistiamo infatti verso la fine del Cinquecento e il Seicento all'inizio del declino dell'impero sburgico dopo Carlo V. Nello stesso tempo assistiamo all'affermazione della monarchia assolutistica francese. Il Settecento sarà il secolo per eccellenza della monarchia francese, ma le basi di quella potenza già si intravedono con forza nel Seicento. La Francia comincia a diventare un punto di riferimento europeo nello scacchiere politico europeo molto molto importante. Allo stesso tempo assistiamo alla decadenza della Spagna e quindi anche del suo impero coloniale e con la decadenza della Spagna assistiamo anche alla decadenza dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, l'Italia in particolare. Il declino dell'Italia sarà strettamente legato con il declino della potenza spagnola. Nello stesso tempo assistiamo all'affermazione commerciale prima di tutto dell'Inghilterra e dell'Olanda che diventano di fatto i signori del commercio questa volta planetario, globale, mondiale che si svilupperà dal Seicento in poi. In Inghilterra però dobbiamo segnalare un movimento molto interessante che in questo momento rimarrà un unicum in un contesto politico molto differente ma che è da mettere in evidenza perché è la nascita di fatto della monarchia parlamentare inglese. In ultimo ma assolutamente non meno importante degli altri fenomeni che abbiamo velocemente tratteggiato come sfondo del movimento del barocco è la guerra dei trent'anni una guerra che se da una parte permette da alcune nazioni come la Danimarca, come la Svezia di affacciarsi nel panorama europeo dall'altra ha una serie di implicazioni ovviamente nella visione della vita dell'intellettuale e anche dell'uomo del Seicento particolarmente importanti. In altri video affronteremo questo aspetto concentrandoci soprattutto sul concetto di tolleranza e su quello che poi saranno le conseguenze di questa guerra dei trent'anni. Andiamo ora a concentrarci nello specifico sul fenomeno letterario e andiamo a indicare origine e significato del termine barocco e qui cominciano i problemi nel senso che l'origine incerta c'è chi lo fa derivare dal portoghese e cioè dal termine barocco con questo significato come perla irregolare non sferica e perciò strana e anormale. Altri invece preferiscono l'origine francese barocca nel significato di stravagante e bizzarro. Comunque sia l'origine portoghese o francese dalle definizioni possiamo tutto sommato riaffermare che per barocco noi intendiamo un movimento artistico letterario e musicale che si è sviluppato come vi ho già detto nell'arco del Seicento ed è caratterizzato dalla tendenza la grandiosità al virtuosismo formale alla produzione di effetti straordinari. Questo termine che nasce comunque nel Settecento e che gli autori del Settecento lo hanno utilizzato in maniera negativa con accezione negativa tutto sommato, l'abbiamo visto nella slide precedente sia che essa sia l'origine portoghese sia che derivi dalla francese comunque per barocco noi intendiamo qualcosa di stravagante di artificioso, di esuberante e di goffo. Diciamo che per molto tempo questo termine con la sua accezione negativa rimarrà come peso su quest'arte poi piano piano si comincerà a rivalutare questo periodo si parlerà più di seicentismo si parlerà cioè degli elementi anche interessanti, molto interessanti che il barocco proporrà non soltanto per lo sviluppo del pensiero letterario nei secoli a venire ma anche e soprattutto parleremo di una tendenza barocca nel Novecento. Non ci rimane in questa prima parte di questa lezione sul barocco di analizzare un po' l'area geografica di riferimento fondamentalmente quando parliamo di barocco parliamo dei grandi autori spagnoli ma anche dei grandi letterati francesi e inglesi però noi lo studiamo anche in letteratura italiana e seppure con dei distinguo che vedremo nello specifico Marino e Galilei, per dirne due soltanto rappresentano due visioni per molti aspetti simili per certi aspetti lontane comunque due visioni del fenomeno del barocco. E allora ora andiamo a vedere un pochettino la visione del mondo proprio di questo movimento letterario. Per avere un'idea precisa dell'argomento che stiamo affrontando dobbiamo fare un piccolo passo indietro e in questa slide andremo a ricapitolare velocemente un video che ho già prodotto sulla crisi del Seicento perché il Seicento effettivamente è un secolo che presenta caratteristiche veramente molto molto particolari dopo un periodo di grande crescita soprattutto economica ma anche ovviamente artistica, letteraria che sarà appunto il Cinquecento il Seicento si caratterizza per una crisi agricola molto profonda per carestie che flagellano anche a causa di una temperatura che è molto mutata rispetto e peggiorata rispetto al periodo precedente una profonda crisi alimentare che porterà addirittura a molte persone ovviamente le persone più fragili a privarsi di prodotti fondamentali quindi li porteranno proprio alla morte per fame e al flaggello delle epidemie che ritornano dopo un periodo di assenza a devastare non solo l'Italia ma l'Europa più in generale ricordiamo la famosa peste manzoniana e il conseguente calo demografico dovuto non soltanto a quanto abbiamo detto prima ma anche a un periodo che purtroppo sarà anche molto ricco di guerre e quindi di morte detto questo e allora vediamo un pochettino di addentrarci di più in questa visione del mondo che l'uomo barocco ci presenta innanzitutto in questo periodo assistiamo al rifiuto di tutto quello che è l'arte del rinascimento quindi della misura e dell'equilibrio proprio del periodo precedente è un rifiuto anche del classicismo più in generale quindi si preferisce qualcosa che sia appunto diverso dal classicismo è il periodo in cui si diffonde la riforma protestante e quindi anche quelle idee legate alla riforma protestante idee che riguardano anche la visione del mondo di una persona appunto luterana e dall'altra parte assistiamo alla controriforma cattolica all'organizzazione più puntuale del tribunale dell'inquisizione dell'indice dei libri a un periodo quindi di fortissimo dogmatismo e anche di oscurantismo particolarmente preoccupante che segue appunto alla controriforma cattolica in tutto questo un libro di Copernico getta una luce incredibile nella visione del mondo dell'uomo di quel periodo si parla di rivoluzione copernicana che non sarà soltanto una rivoluzione scientifica come ho già avuto modo di dire in un video ma sarà una rivoluzione culturale profondamente culturale a questo si aggiungono anche le conseguenze delle scoperte geografiche l'incontro con altre civiltà il porsi il problema del punto di vista dell'altra civiltà che non per forza come volevano alcuni doveva essere inferiore rispetto all'uomo europeo ma queste civiltà sono portatrici anche di una cultura che è diversa e quindi l'incontro col diverso porta l'uomo europeo a confrontarsi con qualcosa che non aveva visto prima e quindi verso una dimensione di cui parleremo tra poco di forte, accentuato relativismo è sicuramente quella dell'uomo del Seicento una visione del mondo che getta quest'uomo in una crisi profondissima abbiamo visto la crisi alimentare la crisi agricola tutto questo ha delle conseguenze sulla visione del mondo perché l'eliocentrismo di Copernico mette in crisi il geocentrismo difeso dal sistema aristotelico e tolemaico e ovviamente difeso anche dalla Chiesa Cattolica e su questo ho prodotto anche un video la crisi del geocentrismo porta con sé la crisi dell'antropocentrismo e quindi la crisi di quel sistema vedi le sacre scritture in quale l'uomo era al centro dell'universo quindi come abbiamo già detto la rivoluzione copernicana non è soltanto una rivoluzione scientifica ma diventa anche una rivoluzione delle coscienze e una rivoluzione culturale estremamente profonda lo accennavamo nell'altra slide a conclusione dell'altra slide cioè il punto di vista del diverso che poi diventerà il buon selvaggio ma vedremo questo in un'altra video lezione costringe l'uomo del secento l'uomo europeo a prendere in considerazione anche il punto di vista dell'altro e quindi porta l'uomo del secento verso il relativismo e allora andiamo più nello specifico nasce in questo periodo quella che viene chiamata la nuova scienza cioè un modo diverso di approcciarsi al mondo innanzitutto l'autore gli autori licenziati del secento sentono forte il bisogno di opporsi all'autorità degli antichi e il rifiuto dell'autorità degli antichi in effetti questo accadrà anche in letteratura con il rifiuto per esempio delle cosiddette leggi pseudo-aristoteliche di unità di tempo luogo e azione ma nello specifico questo rifiuto dell'autorità degli antichi porta appunto l'uomo a credere alle proprie sensate esperienze cioè le esperienze che lui fa quindi l'osservazione del mondo che fa attraverso i suoi sensi attraverso per esempio la vista Galilei mette in campo un metodo sperimentale che è basato e la facciamo in maniera molto veloce su un'osservazione diretta della natura e del fenomeno una riproduzione del fenomeno possibilmente in laboratorio e una formulazione di una legge scientifica ecco questi tre passaggi fondamentali diventano la traccia dell'uomo che si addentra in un universo che diventa sempre più diverso perché quei calcoli che non tornavano se si partiva da un universo chiuso con le stelle fisse di Aristotele di Ptolomeo questo universo va in crisi questa visione dell'universo va in crisi l'universo si scopre che è in espansione e questo universo in espansione genererà naturalmente una serie di riflessioni molto interessanti l'universo in espansione lo si vede grazie al perfezionamento del cannocchiale che diventerà il telescopio e finalmente l'osservazione del cielo permette per esempio di sostituire al cerchio che un po' rappresentava la perfezione per gli antichi l'ellisse che rappresenta ovviamente rispetto al cerchio qualcosa di irregolare qua torniamo a quella definizione del barocco come qualcosa di stravagante irregolare anche se in questo caso non possiamo parlare di un'accezione negativa dello stravagante del diverso diciamo rispetto al normale perché l'ellisse sarà proprio l'elemento essenziale e permetterà agli astronomi di fare calcoli sempre più precisi in un universo che non gira più attorno alla terra ma che ha come suo centro il sole naturalmente la nuova scienza si applica anche a una natura che è in continua metamorfosi una natura naturans una natura che genera costantemente ed è caratterizzata quindi da una da una serie di forme che tendono a cambiarsi e a mutare con estrema varietà e l'uomo quindi osserva questa natura straordinaria la metamorfosi di questa natura di queste forme che trova nella natura e rimane appunto abbagliato colpito da questo fatto ma sente il bisogno di studiarlo attraverso appunto il metodo sperimentale osservazione diretta la formulazione della legge scientifica fino a prova contraria la natura diventa un campo da scoprire quali sono le conseguenze di queste grandi scoperte che vengono fatte non soltanto guardando il cielo ma anche solcando i mari innanzitutto la meraviglia o per dirla alla marino la maraviglia cioè quel piacere delle scoperte quella sensazione di vedere cose mai viste prima questo interesse profondo per i legami che sono ancora segreti tra le cose perché ancora l'occhio dello scienziato non ha finito di analizzare quel fenomeno e quindi non ha ricavato quella legge scientifica che può ovviamente spiegarci i tanti perché di queste cose quindi è il piacere il piacere tanto dello scienziato che cerca appunto di trovare nella natura questi legami e di portarli alla luce ma c'è anche il piacere della persona che scienziata non è ed è letterato che proprio in quel momento in cui questi legami ancora sono segreti stabilisce tra le cose delle connessioni che diventano delle ardite metafore ma l'altro elemento sicuramente importante è quello dell'inquietudine l'uomo del seicento lo dicevamo anche qualche slide fa è un uomo in profonda crisi è il figlio di un'epoca in crisi è un uomo che ha perso le sue certezze perché è facile pensare a un universo in cui la terra è al centro di tutto in cui ci sono solo stelle fisse è facile per l'uomo sentirsi grande in questo universo limitato l'uomo davanti a un universo in espansione infinito nota avverte tutta la propria piccolezza e percepisce la propria vita come fragilità vede la natura che tutte le cose nascono e muoiono in questo processo di metamorfosi incredibile e avverte se stesso come appunto un personaggio fragile una persona piccola debole di fronte a questi fenomeni incredibili nello stesso tempo avverte un relativismo culturale pensava che quello che sapeva fosse il sapere dell'uomo che la propria cultura fosse la cultura dell'uomo sulla terra l'incontro con altre popolazioni lo ha appunto relativizzato lo ha cioè posto in una condizione di essere uno tra molti e quindi tra la propria cultura essere soltanto una tra le tante culture che si possono incontrare in questo straordinario mondo e l'intellettuale l'intellettuale è di fatto quel personaggio che risente della crisi del sistema delle corti italiane l'Italia va in crisi lo straniero ormai ha conquistato gran parte dell'Italia si ragiona non in termini di territori per quanto vasti ma comunque ristretti a un ambito che non va oltre quello regionale per l'Italia e molte di queste corti delle corti cioè rinascimentali di fatto se non scompaiono diventano delle corti molto meno attive di prima e ovviamente tutto questo comporta la riduzione dell'autonomia dell'intellettuale quell'intellettuale che poteva tranquillamente girare di corte in corte per offrire il proprio lavoro di intellettuale il proprio lavoro letterario di fatto diventa un vero e proprio segretario si chiede anche all'intellettuale una competenza professionale non letteraria e quindi di fatto l'intellettuale diventa un vero e proprio segretario all'interno di quelle poche corti che sono rimaste naturalmente se la corte non è quel luogo protettivo come poteva essere per esempio per un ariosto l'intellettuale deve comunque vendere le sue opere perché da lì che passa il suo sostentamento e vendendo meno il sostentamento della corte che gli offriva appunto vitto e alloggio l'intellettuale deve andare alla ricerca del successo e cioè deve dipendere dal gusto delle mode e dalle mode dei lettori e alla fine il fine della sua opera deve essere se non esclusivamente ma molto importante deve essere quello di dilettare il pubblico in altri casi l'intellettuale si chiuderà nelle accademie saranno letterarie anche scientifiche e qui troverà ma sempre in un mondo chiuso sempre più separato dalla realtà troverà l'occasione per discutere di letteratura o di scienze con persone che condividono i suoi stessi interessi ma l'intellettuale comincia a separarsi da quello che il mondo che lo circonda una slide molto veloce sui generi letterari che noi incontreremo in questa riflessione sul periodo del barocco sicuramente il genere letterario più utilizzato dagli scrittori del barocco è quello della lirica e su questo torneremo perché vedremo appunto varie sfaccettature che la lirica acquisirà e varie tematiche che affronterà in questo periodo molto particolare al poema cavalleresco si sostituisce un poema mitologico ed eroe comico l'intellettuale non produce più un poema in cui al centro c'è un cavaliere ma un po' le mutazioni che avvengono nel fare la guerra e un po' l'abbiamo visto con Ariosso la crisi del cavaliere porta al fatto che nel seicento il poema diventerà non più cavalleresco ma soltanto mitologico vedremo ladone oppure addirittura eroe comico come appunto potremo vedere sulla secchia rapita del Tassoni il romanzo diventa un genere importantissimo citiamo solo un'opera su tutti gli altri ed è appunto il Don Quixote di Cervantes comincia cioè ad affermarsi un modalità di narrazione che poi ovviamente evolvendosi modificandosi anche nelle forme diventerà poi quello che noi apprezziamo nell'età moderna come appunto il vero e proprio romanzo la letteratura dialettale è un altro genere utilizzato dagli intellettuali ricordiamo tra questi per esempio le opere di Giulio Cesare Croce per esempio o anche le fiabbe napoletane dello conto degli conti di Gian Battista Basile per concludere la trattatistica su cui torneremo naturalmente trattatistica sia in ambito morale e anche politico sia in ambito scientifico e su questo su questo aspetto particolare torneremo quando affronteremo Galilei la trattata di di